Crolla inaspettatamente in casa la Marco Polo, travolta 64-80 dall'asse Geco Casal Pusterlengo, confermatasi bestia nera dei forrivesi, che hanno incassato l'ottava sconfitta consecutiva su altrettanti confronti con il quintetto Lombardo. I biancorossi sono usciti al termine dei 40 minuti fra i fischi del pubblico, inviperito per aver assistito ad una partita a senso unico, infarcita dagli errori e dal non gioco dei padroni di casa. E che le cose non sarebbero andate per il verso sperato, lo si è capito subito con la Marco Polo già doppiata al quinto, 13-23. Da lì in poi la Segeco non ha dovuto fare altro che continuare a macinare il suo gioco, apparso irresistibile, ma solo perché ha potuto specchiarsi nella pochezza altrui. A inizio terzo quarto i Lombardi sono arrivati addirittura più 25, 32-57, per poi limitarsi a controllare la partita con un solo sussulto dei forrivesi capaci, grazie a rientranti e l'estini, di portarsi a meno 12, 59-71, a tre minuti e mezzo dal termine, per poi naufragare nuovamente nel finale. Gravissimi limiti mostrati dalla regia forrivese e per la prima volta anche Gordon è stato autore di una prova disastrosa, in parte però figlia dei rifornimenti col contagocce a lui destinati dagli esterni. A salvarsi parzialmente dal naufragio i soli Poletti, sempre gran lottatore in aria, Whitman che comunque ha raggranellato un buon bottino. Nel dopo partita coce di Lorenzo si è assunto tutte le responsabilità di quanto accaduto in campo, ma appunto in campo ci vanno altri. Ora la Marco Polo deve al più presto, ma non sarà facile, dimenticare questo grosso passo falso e guardare avanti. Casal Pusterlengo invece, panchina cortissima, solo sette giocatori con punti a referto, ma apparsi tutti dei marziani, nota con un certo disappunto che domenica prossima non incontrerà Forlì. Telecronico dell'incontro domani sera a partire dalle ore 23 al termine del programma Panorama Basket, dove gli argomenti non mancheranno.